O-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Patrizia! O-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Sarò qui il 27 dicembre con la Notte dei Tamarri, spettacolo mio per festeggiare i 30 anni di carriera e i 30 anni da Patrizia, insomma da tutti i successi storici e sì, effettivamente mi sono anticipato un po' troppo In questo momento stanno montando altre cose, poi arriveremo noi e monteremo una scenografia di Tamaro, sorpresa delle sorprese, non si può dire, una cosa bella facciamo. Io ho iniziato a cantare, no 30, 32 anni fa, però i due del Covid non li voglio considerare, quindi faccio 30, è cifra tonda. Ho iniziato 30 anni fa a cantare, canta oggi, canta domani, alla fine non si accorta che erano passati 30 anni. Credo di essere forse l'unico in Italia che va a fare le feste di 18 anni nelle discoteche per i 18 anni e va a fare le feste dei signori 50 anni, quella che hanno compiuto i 50 anni. Forse sono l'unico che fa queste cose, c'è un pubblico trasversale.